Lo scorso anno ho avuto l'opportunità di prendere parte ad un progetto promosso dal mio istituto in collaborazione con Camelot che è un'associazione la quale si occupa di ospitare ragazzi profughi provenienti dall'Africa subsahariana che hanno un'età massima di circa 18 anni, 18 anni e 6 mesi. Da questa collaborazione sono nati tre differenti laboratori, un laboratorio artistico, un laboratorio sportivo e uno musicale. Io per esempio ho preso parte a quello sportivo e da un progetto del genere è nato il mio interesse ovviamente per un mondo del quale non conoscevo l'esistenza che è il mondo dell'immigrazione, un mondo ricco di problemi che bisognerebbe anche provare a risolvere e quindi questo mi ha reso anche più sensibile. Adesso quando cammino per Bologna cerco anche di individuare quelli che potrebbero essere degli eventuali problemi da risolvere e quindi il mio progetto si basa proprio su dei problemi che io ho notato essere presenti sul territorio. In realtà non si basa solo su due problemi ma anche su un'opportunità. I due problemi sono la presenza di numerosi edifici che non vengono utilizzati presenti sul territorio e dall'altra parte appunto il problema dell'immigrazione. Molto spesso non vengono trovati edifici dove poter ospitare questi ragazzi e la cosa sembra un po' un paradosso perché da una parte abbiamo un esubero di strutture non utilizzate e dall'altra invece ce n'è la necessità. Vorrei proporvi due numeri che sono 4,1 milioni e 11,2 milioni. Uno di questi è il numero delle case che non sono utilizzate presenti sul territorio europeo e l'altro indica il numero di persone che non hanno una casa sempre sul territorio europeo. Secondo voi quale potrebbe essere il numero di persone che non hanno una casa? 11 milioni o 4,1 milioni? Purtroppo appunto le persone che non hanno una casa sono 4,1 milioni e le case che non vengono utilizzate sono 11,2 e se pensiamo che noi in Italia siamo 60 milioni è più o meno un sesto della popolazione italiana e di questi 4,1 milioni di persone moltissime non hanno una casa perché fuggono dalla propria città, dalla propria nazione per motivi quali la guerra, la fame, vari motivi e molto spesso si vedono innalzare davanti dei muri come purtroppo abbiamo sentito recentemente anche di barricate o cose molto simili nei confronti proprio dei migranti. Quindi questi sono i due problemi principali ma qual è l'opportunità? L'opportunità è la necessità che hanno le scuole di fare effettuare le ore di alternanza scuola lavoro. Infatti vedo numerosissime persone che comunque hanno più o meno la mia età o comunque chi di voi ha figli, nipoti, parenti che frequentano dei licei, degli istituti tecnici sanno che le ore di alternanza scuola lavoro da fare sono tantissime e molto spesso succede che non riusciamo a mettere in pratica quello che studiamo in classe. E quindi l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di basarsi su questa necessità per dar vita ad un'organizzazione finalizzata ad ospitare i ragazzi profughi. Quindi utilizzando strutture già esistenti sul territorio e non utilizzate, quindi riducendo al minimo anche l'impatto ambientale, dare vita a una struttura organizzata, gestita proprio dai ragazzi delle scuole. Quindi per fare alcuni esempi pratici, gli studenti degli istituti tecnici già potrebbero occuparsi della gestione spaziale di queste strutture, oppure i ragazzi degli istituti alberghieri potrebbero occuparsi della mensa, della cucina, la cucina a sua volta potrebbe fare affidamento sui prodotti derivanti dai campi gestiti e lavorati dagli studenti delle scuole d'agraria. Ma come potrebbero i liceali, e parlo da liceale, entrare a far parte di una struttura del genere? Noi liceali potremmo mettere a disposizione le nostre conoscenze teoriche e quindi insegnare. Insegnare materie di base, come per esempio l'inglese, la matematica, ma soprattutto insegnare l'italiano, perché sembra scontato, noi parliamo italiano e non ci sembra neanche quasi una materia, però è essenziale in realtà, perché come fanno questi ragazzi a comunicare con noi se non sanno l'italiano? È ovvio che possano essere costruite delle barricate, non ci capiamo, non riusciamo a entrare in comunicazione, è più facile alzare una barricata contro qualcosa che non si conosce. Se invece noi insegniamo l'italiano, diamo anche gli strumenti a questi ragazzi per poter entrare in contatto con noi. Quindi non solo noi trasmetteremo qualcosa a loro, ma daremo il modo e i mezzi a loro di trasmettere qualcosa a noi. Infatti dal laboratorio al quale ho preso parte ho imparato proprio questo, che loro possono dare qualcosa a noi. Ci divertiamo nello stesso modo, ci arrabbiamo per le stesse ragioni. Abbiamo culture semplicemente diverse, ma bellissime entrambe. Quindi perché non scambiare quello che abbiamo? e quindi proprio da questi problemi si potrebbe arrivare a un qualcosa che tenda anche a valorizzare il territorio che ospita queste strutture. Potrebbe succedere che, diciamo, possano essere viste come veri e propri ghetti, perché comunque i ragazzi vivono dentro queste strutture, gli vengono insegnate le materie queste strutture, però se noi integriamo con il tessuto sociale, con realtà già esistenti sul territorio, allora si va, diciamo, a eliminare anche quello che è un problema di ghettizzazione, praticamente. E quindi cercando di valorizzare allo stesso tempo ciò che ogni città può dare, si può, diciamo, appunto mettere in risalto qualcosa, pensando a Bologna per esempio, la nostra tipicità è la cucina. Cioè noi siamo famosissimi per la cucina, quindi ci sono gruppi anche di sfogline che sono signore che fanno la pasta sfoglia e che molto spesso e volentieri potrebbero avere bisogno anche di una mano. Quindi perché non avvicinare anche generazioni diverse e non solo diverse culture? Sono convinta che l'esempio di Bologna comunque possa essere applicato a qualsiasi città italiana, perché comunque la nostra peculiarità è che abbiamo molte città con le proprie tipicità. E quindi, insomma, da questi problemi cercare di dare un proprio contributo, questo è l'obiettivo del progetto. E infatti quello che vi chiedo è proprio quello di credere in progetti del genere. So che possono sembrare magari utopici, irrealizzabili, magari non pratici, però anche soltanto credendoci, investendoci, possiamo dare il nostro contributo per cercare di cambiare anche seppur poco, seppur nel nostro piccolo, il mondo in un certo senso. E quindi cercare di portare il nostro contributo ad un eventuale miglioramento. Grazie. 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 Grazie.